In merito alle indagini che hanno riguardato il comune di Varapodio per l'inchiesta denominata Cara Accoglienza, Fratelli d'Italia ha deciso di sospendere il sindaco Fazzolari. Queste le parole del commissario provinciale Denis Necci che aggiunge «Le indagini ai suoi confronti non sono certamente espressioni di colpevolezza e fino a prova contraria ogni cittadino innocente ed è giusto che possa dimostrare la propria estranetà ai fatti nella massima serenità, evitando strumentalizzazioni pubbliche». Lo stato di indagato per reati contestati al sindaco Fazzolari, continuo a Nesci con un comunicato stampa, mi induce per ragioni di opportunità e tutela dell'immagine del partito che rappresento a sospenderlo dalla vita associativa trasferendo contestualmente l'esame della sua posizione agli organi competenti e valutare così in via definitiva la compatibilità della sua presenza in Fratelli d'Italia. Fiduciosi che potrà dimostrare la leicità della sua azione amministrativa il provvedimento di sospensione del sindaco Orlando Fazzolari, concludo a Nesci, resterà vigente fino a quando non sarà audito dalla Commissione di Garanzia per l'istruttore della sua posizione, a meno che, considerato il mancato pagamento della quota di iscrizione per le annualità in corso, non comunichi il suo intendimento di non procedere al rinnovo dell'iscrizione, dichiarandosi così fin da subito non più aderente al nostro partito.